e bello a tutti ragazzi sono rimoldigno e oggi ragazzuoli sono qua con un video super speciale in compagnia di mio papà e di mia mamma e dai ragazzi siamo mi raccomando ragazzi questo video è leggendario avete 5 secondi per lasciare like 5 4 3 2 1 like 20.000 like oggi siamo qui per fare una cosa molto molto succulenta per me voi lo sapete già glielo ho già detto ma io vado tranquilla va bene va bene mi piace io sono più tranquillo di lei allora ragazzi oggi andremo a scambiare il telefono di mio papà e di mia mamma sì te l'avevo detto era così il video mamma mia dai vabbè dai vabbè no non mi dai tanto sono tranquillo è sempre tranquillo dai tranquillo allora già partiamo bene allora ragazzi andrò a scambiare i telefoni alla tua mamma stanno già registrando i telefoni gli ho già messo la registrazione dello schermo ora dovrebbero apparire devi andare a vedere che cosa niente adesso vi faccio vedere dai vai avanti no ragazzi ben giocamato allora aspettate prendo tutte e due vostre telefoni perché il problema c'è andremo ad analizzare ragazzi il problema che è dai vai avanti dai dai vai avanti sapientone dai dai ragazzi devo fare la cena dai mamma mia allora ragazzi andremo a fare una bellissima cosa su instagram andremo ad analizzare ragazzi l'applicazione di instagram papà ok instagram lo so sbaglio sempre a dire instagram instagram tu ce l'hai raga mia mamma 1899 follower vabbè 22.000 e 100 ma io ne uso poco eh vabbè ti ho anche spammato poco quelli di mio padre sono tutti miei ma io ne uso poco allora raga volevo dirvi questa cosa allora praticamente loro non lo sanno però c'è una funzionalità che se io clicco per esempio su questo qua di per esempio su questo qua di mio padre clicco su tre puntini qua vedi i tre trattini mi apre fuori una cartella con su scritto elementi salvati e poi se vado avanti non so neanche che c'è sta roba cos'è sta roba no non c'è allora per ora iniziamo dal mio papà direi mamma va bene per te tanto che sta registrando instagram lo conosco tanto bene non lo conosci instagram guarda che faccio gramma no c'ha un naso che gli va in sito sta registrando lasciola allora ragazzi vado papà allora c'era dai vai avanti che faccia fare allora c'è la cartella elementi salvati ma vuoi partire dalla cartella elementi salvati o post che mi piacciono va bene va bene no elementi salvati elementi salvati clicchiamo elementi salvati tu sai cosa sono gli elementi salvati no qualcosa che cos'è dai gira non vediamo se non sai cosa siano vediamo se ci sono ci sono gli elementi salvati mamma e quella mi sembra proprio una ragazza ma sarò io quella lì ma no che che come ma no no mi pare proprio papà io lo sapevo ascolta ma lì ma cosa hai fatto allora partiamo partiamo dalle cose normali qua c'è Zlatan Ibrahim te non sai neanche dell'esistenza degli elementi salvati io io no non so neanche cosa sia che fa ascolta vedi mamma questo è il mio cacciatore preferito dai vai avanti è un uomo è Zlatan ok Zlatan e vabbè ci siamo Zlatan questo è prinsprinsbote prinsprinsbote vabbè adesso possiamo qua hai visto mi sembra di vedere la è questa Ludovica Pagani e chi è sta qua allora questa qua potrebbe essere tua figlia ma lasciami parlare un attimo qua allora siccome vedi che c'è sulla maglietta di calcio allora devo vedere come si chiama il colore e se stava bene a te no 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 ma vado a dormire dai 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 ma smettiti ma papà stai zitto e fai più a l'esistenza taci 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 vai avanti perché poi andiamo avanti un'altra diletta le otta ma chi è sta qua no ascolta mi è interessato non tanto ti sembra che una per mangiare la pasta ti mettersi così ma dai ma per favore vieni fin qua che non ti si vede eh papà li salvate te non io ma questa qui c'entra col calcio ma te non fai la sapientona che poi controlla anche te ma io non c'ho niente mi lasciate parlare un attimo perché sempre nei guai mi devo mettere ascolta un attimo questi qui sono i fusilli allo zafferano i fusilli e anche lo zafferano dai scusa è uno schifo vuolevi la ricetta qui è uno schifo non ho detto che fa schifo ho detto che è uno schifo come è che le chiamate? di letta poi c'è Ciccio Gamer Ciccio Gamer è il mio amico lo saluto sempre quando vado in live va bene qua vedo ancora la Ludovica Pagani ancora? sempre lì ah no perché vedi che c'è sulla maglietta non mi piacciono tanto le bandiere dell'America e qui volevo proprio la vogliamo finire qua andiamo in un'altra sezione che è meglio no ma è sufficiente guarda poi riparliamo andiamo in un'altra sezione cosa vai a salvarti sul telefono? allora adesso andiamo neanche una foto mia aspetta non so che c'ho mal di testa allora adesso andiamo in mamma account post che mi piacciono quanto a quelli che lasciate i link i linkes come dici tu i linkes hai lasciati i linkes guarda vediamo allora post che ti piacciono partiamo con la Chiara Ferragni orca miseria tre giorni fa non dico niente perché e vabbè perché sai dove andare a vedere se c'era Fedex e mi è butto fuori lei se sembra assieme e vedi che quelle ci sono assieme vabbè poi vediamo vabbè qua c'è delle ricette c'è uh questo è il bobone non è cambiato questa qua chi è? Jessica Tozzi no ascolta è quella del circo? no ma che circo? circo Tozzi togni no non lo so questa qua è una giornalista sportiva ah è quella che diceva ah come sei bello informato ma no ma questa qui è quella che quando si fa attivare del circo sempre quelli di bimbo ma vai a prendere sempre quelle litte è meglio che la smetti di fare quelle pacce ma allora evita vabbè io direi dai che ci siamo ci siamo adesso andiamo a vedere mia mamma comunque vedo tanti i miei post vedo tante adesso vediamo papà puoi prendere la tua ribalsa vediamo se la mamma vediamo se la mamma adesso lasciamo avviata la registrazione ma io non c'è niente non so neanche usare metto qua il suo telefono dai non sprecare il tempo di me vediamo papà sta facendo la santarella andiamo qua allora vediamo mamma ha pochi follower però lo usa molto Instagram devo dire allora vado non lo uso quasi ma cosa che ti vede sempre lì plin 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 vado allora direi di andare in impostazione no elementi salvati no? che l'hai fatto anche da me fai veloce per favore allora vedo ricette di cucina eh sì che è che usciamo qua certo non c'è nessuno uscito era il mio preferito ma cosa c'è in te è il primo concerto che ho visto a Sestri Levante è suo perché io ero pazza sì pazza per lui perché in testa sembra che c'è un'amichetta lì no ma ti dimentico tu ma guardati tu scusami no dai lascialo stare questo non me lo toccare perché l'hai salvata perché l'hai salvata infatti eh perché perché ho dei miei ricordi ma che ricordi hai che è stato il primo concerto che ho visto non c'è mica non c'è mica non c'è mica non c'è mica un concerto la sua foto tra niente ma mi ricordo quando sono stata al concerto ok allora poi andiamo avanti aspetta ancora ero solo mazzotti ok era così era giovane così quando sono andata questo che andava a scuola andava all'elementare ma guarda che ha la mia età è la tua non è che tanto siamo uguali ho capito eh allora ma è il mio figliolo che era adesso vabbè andiamo avanti vabbè vedo tante ricette sarà meno dolore te lo faccio vedere io poi questo qua ecco tante roba adesso c'è tanta roba ha detto hai sentito ascolta di lì qualcosa beh scusa è un bel ragazzo permetti potrebbe essere mio figlio ho capito ma tanto lo puoi solo guardare non è che puoi far chissà ah ah io ho sempre parteggiato cosa vuoi fare con la non è il ventino lui adesso della juve c'era Caprini Caprini era bravissimo è anche un bel ragazzo c'era vent'anni di te cosa vuoi fare ma io guardavo lo sport solo perché c'erano i calciatori belli ah vabbè adesso va bene chiediamo qua perché poi c'è il figlio di Fede Zechiera Ferragni come cucinare con gli avanzi va bene come cucinare con gli avanzi vabbè quello che ti tocca fare stasera questo qui no questo qui è un grande Marco Mengoni è un grande che canzoni però si salva anche lei i tipi tu dicevi di lui che si salva vabbè capirai io sono tutti cantanti personaggi famosi cosa vuoi dire ma chi sono quelle lì chi le conosce ma non le ha viste ma per favore eh sì dai su dai non dire stupidaggine perché una persona così è una persona andiamo avanti basta Simone finiscila devo andare c'è paura che becco qualcosa no 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 ho paura di niente andiamo dentro in impostazioni account posti che ti piacciono mengoni conferma ancora eros ramazzotti ancora conferma ragazzi abbiamo beccato le crash di mia mamma la portiamo alla casa sua anche lui mi piace poi ci sono i mei contro te vabbè quello lì sono simpatici ok e poi basta non andai ci sei anche tu cacà 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 è un grande cacà piaceva anche a me questo fatto lo posso come piaceva anche a te come giocatore guarda che pensa subito male lei certo che mi piaceva come giocava capirai non mi interessa a me come gioca siamo al posto dai vai avanti dopo assistiamo io andiamo avanti cristiano ronaldo ancora con quell'altro che è questo figo ah rimoldino questo qua sei te non vedi è il mio bambino è il mio bambino è il mio bambino è il mio bambino dai 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 e poi che c'è cristiano ronaldo ancora e poi me tante foto di me chi ha la ferragni ma vedi che sono qua cosa questa qua può passarmela a me tanto non ti serve non so ma per me per me tanto io ma basta che fai in via non si può fare dai è una famiglia simpatica mi serve per fare la pizza è una famiglia simpatica vedi che stanno facendo la pizza mi serve vabbè io direi che posso concludere qui adesso chiuderò si scateneranno aspetta fammi spegnere la registrazione interrompe no no ma tu lo devi registrare tutto secco come registri devi far proprio tu tutto da questo coso altrici ormai ho registrato tutto ragazzuoli ho fatto in tempo a registrare tutto no non registro più adesso andrà tutto online così raga mi raccomando lasciate un like se vi è piaciuto il video se avete fatto una rizzata iscrivetevi al canale la schiera bye è bella ragazzi ciao 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 ciao